Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Alessandro oggi siamo tornati su fortnite ma non siamo da soli siamo con fabio buongiorno a tutti e oggi andremo in coppie registreremo due video io vorrei provare coppie in singolo però faremo anche un video nella modalità incontrire avvicinati che mi piace parecchio ho provato dai oggi cerchiamo una bella vittoria reale in coppia ci proviamo ci proviamo ok ragazzi volevo provare con voi anzi dell'altra modalità nuova che comunque c'è da c'è sarà anche per un po' di tempo 50 contro 50 che sinceramente non ho provato quindi proviamola insieme e vediamo allora andiamo a borgo la scia di gente che si butta diciamo che io non ho mai giocato le 50 contro 50 perché dico vabbè vinci facile 50 contro 50 però proviamo proviamo insieme proviamo insieme a me il mio parere è carina perché se riesci a giocare con qualcuno che ti copre le spalle mi fai un day kill ma sì ora vediamo di far qualcosa di carino intanto la safe è messa malissimo cioè ve lo dico ragazzi mi fa schifo allora io come modalità di questo genere avevo provato le 20 contro 20 in particolare comodità anche se in tempo c'è tra poco la levano non l'ho provata allora intanto ho solo pistoli intanto ho solo pistoli aspetta c'è tornare allora io lo shield me lo bevo si sono i due grandi orni del bevo tu lì comunque io l'ho fatto qualche volta quando era la prima versione mi sono capitati partiti da fare i nuovi kill cose del genere ma si perchè comunque no è particolare come cosa potrebbe uscire qualcosa di carino però l'unica cosa è che succede praticamente tutta la fine proviamo a fare più di 5 kg l'obiettivo più di 5 kg allora ragazzi che ce la facciamo dai ok c il complessivo tu dai o no vabbè facciamo tipo proviamo a fare tipo 5 kg ciascuno allora io ho 12 gramate ora ho 12 gramate tre piccicose buon buon sento fai dare sì che stai inserendo da arrivare là c'è tanto iniziali fai sì entriamo iniziamo sì ora entriamo iniziamo lo volevo prendere vabbè qual è il gioco lo sapete lo volevo ok grazie se 0 film non ha fatto Mi sa che abbiamo gente di sopra, però io non c'ho il pompo ancora E' un bel fight qua Dico, questo è una zona bruttissima per chiudersi nel 50-50 Ma praticamente siamo noi, sono tutti avversari Fabio Sai che ti dico, io mi butto una jump e me ne vado No, ho messo una trappola Sono tutti avversari Spostiamoci, spostiamoci Ok Mi sparano col cecco Aia Mi è arrivata una pizza Siamo in una situazione bruttissima, Fabio Sì, c'è arrivata da me Sì, ci provo C'è una jump qui Sì, c'è una bomba Non mi costrisce, non mi costrisce, non mi costrisce Non mi costrisce Mi sembra comunque normale che non costruisci Siamo 38 contro 40 Però io ancora non ho il bomb Se qui c'è un bomb Qui sotto ci sarà un bomb Ok lì sì ce n'è uno Niente spara Sì comunque non si può fare che non ho preso il posto Ah sì Gino di boccia Gino di boccia Gino di boccia Si lancia una granada Preso Eh cioè dai hanno il cecchino Oh oh caro si aiuto No no Sai io che se magari smettagli la cara Se vuoi mi butto Aspetta aspetta No 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 Rimani dentro è meglio Sì Sì però attento Hai tipo bipidone Non più Cazzo Ho un doppio falò però Sì Sì Che stai a partire adesso Dappilo Sì 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 Siamo fregati Fabio Cioè Siamo in vedi Ehi nico! Troppo loro hanno il bonus in attenzione Aia mi sparano Ok qui c'è un magic hit Vediamo 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 se arrivi a sparare queste magic hit Allora C'è un bordello, c'è un bordello I nostri praticamente sono tutti sotto Ho bisogno di help A terra No non mi ha fatto il medico C'è Vai Allora, una kill fatta Siamo a 19 contro 27 La vedo un po' male No Grande Se facciamo dei miracoli Non credo Qui c'è un po' di roba che mi interesa Allora Allora mi devo buttare in giro questi due shield Madonna Fabio c'è un casino Troppo loro Non ho finito Non ho finito Ma non ho finito No ho finito Ehm Non ho finito Non ho finito no tra terra vai Ale va tra terra tra terra Ale conferma dai così vai eh si tra terra ok 4 kg vai Ale io non ho fatto 3 quindi siamo 7 ehm 7 compressioni ok siamo 9 contro 10 infatti è un po' difficile inizio poi guarda cosa c'è lì so c'è bisogno di veramente buttarlo giù però è impossibile aia non c'è bisogno di prendere il loot lì ok budara dai 6 va bene dai se comunque vada sono tutti svanta ahi senti sopra ecco ci sono ci c'è po' che jump userò eh si sempre a trovarla però ahi senti sopra i dati c'è gente ma c'è le brett sicuro po' che jump eh si ma io ne ho 2 solo io questo è il mio cadavere ignorantissimo madonna siamo 8 contro 11 alla fine ce n'è anche troppo 7 contro 11 a terra a meno che non lo resti non so che fare scendi scendi per quello la che terra se puoi viene un po' complicato sottone uno sottone uno si perchè non vai gli ha messo la trappola ok è lì qua ok 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 bene un secondo eserci 7.9 try Alex se puoi fare ok ho un'ansia fabio adesso non è bella questa modalità mi ha detto si però oh libidone aspetta questo me lo metto me lo prendo si sparo solo subito 7 di 7 7 contro 7 oh senti che stiamo perdendo tantissimo abbiamo siamo anche in vantaggio un po' io me li sono un po' io me li sono fatti anch'io 7 contro 5 proprio non ci credo aspetta mi sto emozionando ok c'è qualcuno c'è qualcuno anche il limite massimo di jump che posso tenere c'è qualcuno c'è qualcuno lì ma non va niente scherzò allora ma dove sono gli altri che si vede in gruppo se possibile sono qui sopra ah si sentimi due dai 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 uno me lo vorrei qualcun altro tu è un'altra zona che si sta chiudando ma non c'è c'è e ora dove sono sei sopra sono sicuro tipo in alto in alto campeonato vittorio dg7 kg dai bella bella peccato che sono morto così in modo studio eh vabbè dai tranquillo vittoria dai gg va bene che erano 50 contro 50 ma eravamo in svantaggio diciamo che siamo rimasti la resistenza praticamente praticamente abbiamo fatto il 9 va bene dai direi che questo video può finire qui bella 50 contro 50 mi è piaciuta ragazzi il video può finire qua mi raccomando condividete il video saliamo di iscritti commentate condividete lasciato un bel pollice in su e noi anche con fabio ricordatevi votare al sondaggio ci becchiamo un prossimo video fabio saluto ciao ciao